Casoni in prima posizione, Felicetti in seconda, Perio in terza, Trilocco all'esterno, va a conquistare ora la terza posizione. Casoni, Felicetti, Trilocco, Casoni, Trilocco che va ora a prendere la seconda posizione, Casoni ai 200 metri dalla fine, Casoni, Trilocco, Felicetti, Trilocco va a sorpassare Casoni, Trilocco, Casoni, Felicetti. Partenza valida, Moroni Filippo, sicura posizione per Giacomo Bernabèi, Massacheri, Moroni Bernabèi, Moroni Bernabèi, Moroni Bernabèi ancora con Kevin Massa in terza posizione, tiene Moroni la prima posizione, Moroni Bernabèi, tempo 43.0. Partenza della terza batteria, grande batteria con Cremaschi, Mallorca, Grisoli, Salino, Cremaschi-Mallorca, se ne danno all'ultimo giro, Cremaschi-Mallorca, curva chiusa bene da Cremaschi, traiettoria più larga di Mallorca che non riesce ad attaccare, e vediamoli all'arrivo, Mallorca fuori, Cremaschi-Mallorca, bravi, bravi, 41-69. Massa Giacomo, secondo posto all'atleta di Bellusco, Riccardo Ceola, in seconda posizione, Adriana Juniore, Ceola, Mazza, Ceola, Buona prova anche nella quarta batteria, 41-88 di Mazza, e sono partiti! Federico Mencarelli, prima posizione, ora attenzione Maoloni, Maoloni e 54 Carli, Maoloni, Carli, Mencarelli, 42-70 batteria, partiti! Bernabéi, Bernabéi, Menegaldo, si va con i giovani e Salino che va a chiudere in seconda posizione sull'atleta Bernabéi, Salino che è lì incollato a Menegaldo, Salino all'interno, Salino, Menegaldo, Bernabéi, Bel sorpasso pulito di Salino, Salino e Enrico Salino, bravi ragazzi, 42-30! Sargoni, Piercini, e Sargoni con un bel forcing, Piercini ora in seconda posizione, Sargoni che va a tenere la prima posizione, Piercini in seconda, terza posizione San Mauro, Torino, Gabriele Taricco, ultimo giro per Sargoni, Piercini, Piercini, Taricco, Sargoni, Sargoni, per la prova con i Sargoni, Sargoni, 41-30, miglior tempo!